Quando volete partito, dai su, The Beatles Live! In questa televisione, guardando solo il canzone di tutti quegli uomini accessuali, a dorme e verne a ruzo, The One Piece, da che preoccupazione brutale? Oppure ricordo quando i giapponesi, mi scarico a te in cine su chi vede, puoi metto il cesca in potezzolone e porto fuori il tuo cederone, Ma a me non me ne frega un cazzo 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 come vi sentite dopo questa performance straordinaria? io personalmente mi sento molto Bidus molto Bidus io sono lieto di essere qua ad assistere i Bidus per la prima volta un commento dal batterista il prossimo live in Giappone ok nel 2029 qualcosa di più di più prima diciamo prima è difficile con questi nuovi contratti è colpa del mercato diciamo capisco capisco ma magari con un'immanicata di quale fate bene la qualità la naturalezza oserei dire avendo gustato personalmente questa performance bene bene si figuri grazie a lei un saluto anche agli altri due componenti ecco il bassista ha preso un attacco di euforia dopo il pezzo il cantante chitarrista è partito da solo è colpa mia è andata via la corrente oh metto